Eccoci qua, buonasera a tutti. Questa sera in agenda c'è l'Europa, non spaventatevi, non tutta l'Europa, quella che si riferisce alla regione Friuli Venezia Giulia. Il 25 marzo scorso l'Europa ha celebrato i 60 anni del Trattato di Roma, il 31 marzo scorso si è chiuso il ciclo programmatorio dei fondi europei 2007-2013, si è arrivata a quelle che vengono chiamate le redicotazioni e quasi tutte le risorse messe a disposizione dell'Unione Europea sono state utilizzate. C'erano in ballo 27 miliardi 940 milioni di euro con fatture e scontrile ricevute, ci sono certificate spese per 27 miliardi 574 milioni. Restano a Bruxelles soltanto 186 milioni, dico soltanto perché rispetto al volume complessivo sono davvero pochi. E sempre nel marzo scorso, proprio in occasione dell'anniversario dei 60 anni d'Europa, ho avuto l'opportunità di presentare il libro di Graziano Lorenzon, che è qui stasera, e mi sono reso conto che l'operazione del manager italiano specializzato in relazioni internazionali poteva avere un impatto importante, cioè accendere i riflettori su ciò che tutti o quasi chiamano opportunità, ma che pochi o quasi conoscono. Allora, giusto per rompere il ghiaccio con i nostri ospiti, che non sono totalmente europeisti a dire la verità, vi faccio vedere questi 60 secondi di una clip realizzata dall'Unione Europea proprio per i 60 anni. Allora, giusto per rompere il ghiaccio con i nostri ospiti, che non sono europeisti, che non sono europeisti, allora, giusto per rompere il ghiaccio con i nostri ospiti, che non sono europeisti, che non sono europeisti, che non sono europeisti. Eccoci qua, ci sono dentro ingredienti che sicuramente avranno fatto venire l'orticaria a Riccardo Piccinato che qui ospite, rappresenta, non so come dire, insomma fa parte della scuola di pensiero che riguarda la teoria della moneta moderna l'MMT, cosa pensa di questa Europa con così tanti contenuti, ho visto immigrati, ho visto gente insieme, grandi slogan, cosa pensa di tutto questo? Penso che si stia esagerando nella propaganda a senso unico, quindi da un punto di vista teorico per me questo è molto sbagliato nel senso che quello che dovrebbe essere l'Unione Europea ci era stata appaventata come qualcosa che liberava un po' i popoli da un punto di vista della dialettica, della verità, del buon governo eccetera, invece si sta pian pian rivelando l'esatto opposto si sta rivelando una macchina burocratica che costa i cittadini, farraginosa, che crea conflitto all'interno da un punto di vista economico da un punto di vista sociale, da un punto di vista politico tra gli stati, quindi sta paradossalmente facendo distruggere quella che invece era un sentimento comune europeo di cui anch'io sento di essere parte, ma non di questa Unione Europea quindi da un punto di vista economico, anche per tornare all'incipit, si sta facendo tutto quello che era il contrario di fare si è partiti da delle basi che sono completamente sbagliate, perché si è partiti dal tetto invece che dalle fondamenta Benissimo, benissimo, sentiamo il consigliere regionale Elena Bianchi che a furor di popolo è qui in televisione questa sera vediamo un attimo cosa ci dice se è in sintonia con il sovranista Beh, diciamo che quello che ci fanno vedere è molto accattivante e solletica molto i buoni sentimenti il desiderio di pace, il desiderio di conoscenza, di scambio che tutti noi abbiamo però fa vedere solo un lato della medaglia, solo un lato e io credo che sia ora di iniziare a ragionare su quelli che sono i veri effetti delle politiche che sono state messe in atto perché nessuno discute sui principi, nessuno discute sul desiderio di appunto avvicinamento fra i popoli di scambi, di commistioni, però se le basi con cui sono state messe in atto queste politiche non danno i risultati e i frutti che ci si aspetta bisognerebbe fermarsi un attimo e cercare di capire come e cosa fare affinché questo eventuale grande sogno possa realizzarsi Ecco, con noi c'è anche Marco Calzavara dell'omonima azienda che lavora in 30 paesi telecomunicazioni, dicono i primi stilisti dei pali al mondo, insomma, arredo, arredo qualcosa di incredibile Niente, quando sente parlare di Europa e sente queste valutazioni, cosa pensa? Che ci sono delle ragioni forti e profonde che portano dalla loro parte, però poi bisogna ragionare con i numeri e oggi come oggi da un punto di vista finanziario l'Italia non può permettersi di fare quello che vuole Noi scontiamo una politica di sperpero finanziario, sto parlando del debito pubblico, che si porta dietro da tanti anni Certamente qualcosa deve accadere perché così com'è l'Europa non funziona, anche perché è estremamente squilibrata tra alcuni paesi e altri, però pensare di dire domani mattina ci salutiamo, staremo a vedere Vediamo cosa succede con l'Inghilterra, abbiamo questa occasione che nei prossimi due anni si concretizzerà e poi dopo ognuno fa le proprie scelte Benissimo, Alessandro Colauti, area popolare? Alternativa Alternativa, alternativa popolare No, sono queste sigle che vanno, vengono, non si capisce bene Niente, invece noi abbiamo già presentato il libro di Lorenzon Abbiamo focalizzato la questione su un tema importante, i fondi europei, la possibilità che effettivamente al di là del discorso molto banale, se si vuole, dell'opportunità, arrivi del denaro che ovviamente noi diamo all'Unione Europea e ci viene restituito per sviluppo, per innovazione per coesione, per far crescere le aree che hanno problemi di svantaggio Ecco, su questo terreno lei cosa si sente di dire? Mi sento di dire che sicuramente diciamo così il fatto che una regione una macro regione intesa se più regioni che si presentano a livello europeo e riescono ad attrarre finanziamenti su politiche territoriali proprie del territorio siano un grande vantaggio dal punto di vista dell'organizzazione dell'Europa le regioni hanno svolto e possono svolgere un ruolo importante appunto che è federale quasi da un certo punto di vista quindi soprattutto per la nostra regione che non dimentichiamoci mai geopoliticamente in un contesto complicato storicamente in una zona che sappiamo ha vissuto la guerra ha vissuto le fratture della guerra credo che l'Europa e anche le politiche trasfrontaliere anche in periodi a cui non c'era ancora diciamo Schengen sono stati utili dal punto di vista della pace della crescita di unire anche ferite storiche che non dimentichiamoci complicatissime perché qui ci dimentichiamo ovviamente qui ci sono anche persone che non erano nate allora per fortuna loro che comunque questa Europa ha dato 70 anni di pace non è sufficiente su questo siamo d'accordo evidentemente poi ci possiamo anche tornare ma credo che queste politiche siano state importanti c'è un dato negativo o comunque non positivo che per molti anni questi fondi che ricordiamo ci sono sempre poi accompagnati anche da fondi regionali o nazionali quindi possono creare un volume un volano importante di sviluppo forse non sono stati esattamente indirizzati agli investimenti diciamo che hanno subito hanno patito in alcuni casi come dire più aspetti quasi idilliaci così di convegnistica di convegnistica di convegnistica di qualche misura prendiamo i fondi europei e facciamo convegne esattamente un po' convegnistica un po' che magari reti intelligenti grandi software con cui dialoghiamo poi alla fine non hanno avuto non sempre ma diciamo comunque in passato molto più di oggi quel ritorno che appunto questi fondi devono avere che sono fondi che devono essere destinati soprattutto agli investimenti ma anche in settore della cultura non è che sono solo i punti quindi forse da questo punto di vista non c'è stata una sufficiente traduzione, una declinazione concreta su questo aspetto anche perché e concludo dal mio punto di vista e qui però il dottor Lorenzo può dissertare molto meglio di me ma siccome ho visto insomma un po' di anni in me sotto questo aspetto i funzionari non c'è stato un impegno costante continuativo a creare risorse umane in grado nella fase ascendente quando si costruiscono i progetti di essere determinanti e di essere poi in grado anche di portare vicino questo è non male non male per un europeista convinto ma l'europeista non manda il cervello all'ammarsso sicuramente abbiamo detto che facciamo convegne abbiamo detto che la burocrazia sostanzialmente non sa gestire la cosiddetta fase ascendente quindi non sa preparare sentiamo il dottor Lorenzo che per la Seracchiani ha fatto questo Europa 2020 non per la Seracchiani per la Seracchiani questo è un manuale di resistenza europeista quindi allora Europa abbastanza sotto attacco e niente e anche con l'auti come direbbe qualcuno non sta neanche tanto bene insomma cosa dice? io sono sicuramente un europeista convinto convinto per delle ragioni non teoriche ma pratiche sarebbe forse anche un pochino troppo lungo il spiegare il perché l'Europa o comunque delle regioni che non sono che non si chiudono all'interno degli stati nazionali sono necessarie abbiamo qui un imprenditore un imprenditore di successo che vive il mercato il mercato internazionale il mondo e ce l'ho appena accennato noi dobbiamo renderci conto che lo Stato nazionale non è in grado più di difendere gli interessi dei suoi cittadini se noi pensiamo che lo Stato la tornare alla vecchia liretta ci consenta di confrontarci con mercati ormai globali con mercati o con dei players dei competitors che sono la Cina io credo che possiamo toglierci la giacca vestire il vestito tradizionale dei friulani friulani e pensare di fare un altro mestiere ovvero portare in giro magari turisti cinesi che vengono da noi dimentichiamoci la manifattura e invece credo che la manifattura sia essenziale l'Europa in questi anni ci ha insegnato molto ovvero avrebbe dovuto insegnarci molto e però noi non abbiamo imparato quello che l'Europa ci ha insegnato programmazione innanzitutto strategie visione mission sono tutti aspetti che purtroppo da un lato la politica dall'altro noi tecnici non siamo stati in grado di recepire e di trasferire ai territori territori che sono il vero centro delle politiche di sviluppo perché anche questo noi spesso ce lo dimentichiamo molto velocemente una piccola replica vedevo che scuoteva vigorosamente la testa sì dico che è di tutta evidenza che i cinesi stanno venendo a fare shopping da tutte le parti in Italia bar squadra di calcio imprese di tutti i tipi natura quindi forse da quel punto di vista anche guardando i dati dal punto di vista macroeconomico era la liretta che ci difendeva molto 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 meglio rispetto a quello che sta facendo questo euro da un punto di vista poi del concetto della pace è anche qui importante smentire quello che un luogo comune è diventato l'Europa si è semplicemente appropriata di quello che è un merito che è stato portato dal punto di vista della pace della Nato quindi non c'entra niente l'Unione Europea c'entra invece la Nato che ha fatto completamente un altro tipo di lavoro e questo ha portato effettivamente la pace va bene Bianchi lei sui fondi visto che ha introdotto un tema in maniera molto delicata nel nostro colauti ma sui fondi beh è evidente che forse adesso che ormai il denaro scarseggia si inizia a pensare più concretamente a come impiegare utilmente però fino ad ora io sono d'accordo con quello che diceva Colauti insomma sono stati più visti come una possibilità di portare a casa del denaro senza troppo pensare all'area all'utilità e quindi è un investimento per il futuro però rispetto ai fondi io ho un po' di numeri allora la programmazione 2014-2020 per il Friuli Venezia Giulia fra i vari le varie linee le varie cose porta a casa circa un miliardino più o meno poco meno di un miliardo in sette anni questo miliardo non viene tutto dall'Europa meno della metà viene dall'Europa il resto viene dallo Stato e dalla regione Friuli Venezia Giulia la regione Friuli Venezia Giulia grazie alle politiche di austerità imposte dall'Unione Europea ogni anno lascia allo Stato poco meno di 2 miliardi di euro allora a me piacerebbe fare un po' di conti un po' di confronti perché se noi più o meno abbiamo 110 milioni all'anno da spendere in progettazione quando ne lasciamo allo Stato 2 miliardi forse forse l'enorme convenienza pratica e puntuale e precisa non c'è tanto sono d'accordo con quanto dice il professore sul fatto che l'Europa avrebbe potuto insegnarci la programmazione la pianificazione la visione e queste cose qui però io ricordo benissimo che l'Italia è sempre stata una delle maggiori potenze industriali a livello mondiale prima che l'Europa venisse a dirci come si fa pianificazione e strategia e se andiamo a vedere i numeri in questi ultimi 10 anni la nostra capacità industriale è crollata di molto è crollata di molto dopo che è entrato massicciamente pesantemente l'euro è cambiato è cambiato anche un po' il mondo forse la Cina non era poi quello che è adesso forse no ma insomma credo io ma comunque Colauti la vedevo particolarmente dubbioso sul miliardo e due miliardi no no siccome la collega diciamo Bianchi è molto precisa delle differenze politiche molto seria nel dare i numeri non capisco i due miliardi che la regione dà allo Stato lascia allo Stato e si sono quali sono questi dove vengono questi due miliardi sono i contributi in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sono 700-800 milioni di soldi che proprio non ci entrano e circa 1,2 miliardi che non possiamo spendere no vabbè allora se facciamo un ragionamento se facciamo un ragionamento sul prelievo che lo Stato in questi anni ha fatto in forma diretta da Tremonti in Monti in poi sappiamo benissimo che siamo sul miliardo e 4 miliardo e 5 di prelievi chiamiamoli forzati unilaterali sul bilancio nostro e questo ci siamo il numero è un miliardo e 4 in una città dopodiché se parliamo di quella che è la rigidità determinata dal patto di stabilità però non è che sono 2 miliardi all'anno che vengono prelevati insomma è una forzatura dialettica no perché ho premesso che è noto è nota che la mia la mia posizione è fortissimamente critica credo il Consiglio regionale si è battuto sempre per recuperare il patto con lo Stato sui temi e su questo sono d'accordo però insomma mi pare sentiamo 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 il Presidente del Consiglio regionale Jacop cosa ha da dirci in merito alla questione fondi Presidente Jacop concretamente questa opportunità che si chiama Europa che è fatta di fondi iniziative progetti viene colta dal Friuli Benza Giulia viene colta dall'Estra Regione o no ma sia concreto per cortesia la concretezza la vediamo e la possiamo così toccare per mano ogni giorno ci sono i fondi europei di sviluppo regionale il fondo europeo per sviluppo ruvale c'è il fondo europeo per sviluppo sociale ci sono tre fondi che competono nella gestione alla regione e che quindi vanno a segnare percorsi importanti sono a sostegno dell'innovazione della ricerca dello sviluppo della competitività che volumi di risorse mobilitano? i volumi che risorse mobilitano è nel periodo di programmazione circa un miliardo di euro qualcosa meno perché ovviamente nel progredire degli anni anche le disponibilità vengono sono state ridotte a seguito del fatto che la nostra è una regione sopra media nella nella dimensione del rapporto del PIL e quindi del rapporto della ricchezza della regione sulla media europea e quindi ovviamente può partecipare e partecipa al programma dei fondi di convergenza non con dei fondi di coesione insomma siamo troppo ricchi siamo un po' ricchi rispetto alle regioni italiane altre regioni italiane quelle del mezzogiorno in particolare che da sempre invece hanno la possibilità di accedere agli importantissimi parliamo di anche dieci volte di più fondi che sono messi a disposizione dalla politica si può fare come dire un'obiezione anche alla realtà regionale che non è la regione ma dico gli industriali per esempio occhi per essi di non accorgersi di quanto potrebbe essere importante questo tipo di lavoro noi in questa regione siamo stati abituati gli imprenditori le realtà le sue azioni i comuni ad avere un rapporto diretto sostanzialmente con la regione cioè la regione ma la regione pensa un po' a tutto i contributi alle imprese i contributi alle autorità alle attività alle associazioni cioè uno in questo momento quando pensa immagina di dover chiedere qualcosa immagina andare a chiedere qualcosa in regione per qualsiasi cosa debba fare in realtà ciò facendo abbiamo perso sostanzialmente forse un po' di determinazione quello che hanno altri paesi penso la Spagna penso la stessa Germania la Germania è presente in maniera assoluta non avrebbe bisogno di per sé ma è presente dappertutto penso l'Irlanda penso a paesi che hanno costruito invece nella visione di una opportunità europea la loro capacità anche di sviluppo ci sono canali ci sono opportunità ci sono programmi ci sono anche idee che si possono raccogliere in Europa io credo che la cosa non possa essere svolta singolarmente penso i comuni ogni singolo comune è chiaro che non ce la fa ma anche per accedere ai fondi di cooperazione trasfrontaliera Italia Slovenia Italia Croazia Italia Austria ci sono fondi per sviluppare iniziative eccetera bisogna sapersi strutturare in entità di competenza in gruppi di competenza lì il lavoro di lobby il lavoro di lobby non deve darlo il pubblico che crea una lobby regionale per tutti le lobby funzionano se funzionano quelle che funzionano bene funzionano perché ci sono i gruppi dei privati che hanno comunanza di interesse che hanno una persona esperta attenta in che modo di leggere la complessità della documentazione degli regolamenti europei che però una volta acquisita diventa di per sé semplice senti appiccinato un miliardo di euro in sette anni capisco sono abbastanza diluiti ma sono sempre risorse che possono utilmente aiutare per esempio l'innovazione cosa dice a parte convegni a parte voglio dire no no allora fatiamo un mito subito allora intanto i soldi non derivano da Marte non precipitano dalla Luna sono sempre soldi nostri l'ho letto in premessa sì sono sempre soldi nostri ma è bene è bene ricordarlo soldi che ad esempio l'Italia in generale da ogni anno circa l'Unione Europea 17 miliardi ne vengono tornati all'Italia in tutto circa nove più o meno ogni anno quindi ne lasciamo parecchi di questi fondi poi vengono appunto gestiti mettendo in competizione i vari comuni quindi creando burocrazia creando enti creando persone che lavorano dietro questo tipo di macchina quindi spreco di risorse eccetera per tante volte delle questioni che realmente si sarebbero pensate di dubbia utilità per il pubblico altre volte spingono quella che è un'innovazione positiva magari sull'ambiente che altre volte non sarebbero state fatte magari dalla politica e spese in cose più contingenti però devo dire che al netto di tutto questa necessità di regalare i nostri soldi ai burocrati europei non è così forte se poi teniamo conto del fatto che anche queste fantomatiche regole di costruzione di ordine sociale eccetera di regole che ci mette l'Unione Europea questa scatola che viene idealizzata abbastanza si guarda quello che è il trattato di Maastricht e si prendono singolarmente i punti si può vedere che il 75% dei paesi europei non rispetta queste regole l'Italia è nella media quindi non è neanche tra i peggiori che ogni tanto sembra che siamo il peggio del peggio quindi quindi insomma questo miliardo le fa un po' schifo questo è no non ci fa schifo ma il punto è che se ce lo fossimo ottenuto sarebbe stato doppio almeno doppio ma c'è sempre questa partita che stavamo cercando di capire con Culauti chi tiene chi dà e chi vabbè Lorenzo la vedo un po' perplessa sì sono perplesso perché i numeri sono numeri la burocrazia bruxellese si porta a casa sui mille miliardi del settennato quasi mille miliardi del settennato di programmazione il 6% quindi non è una cifra enorme 6% compreso non solo la burocrazia compresa anche la politica e se noi facciamo un qualsiasi riferimento non voglio andare in Sicilia ma possiamo rimanere anche qui in regione credo che i rapporti siano sicuramente sbilanciati a sfavore nostro a sfavore della nostra regione quindi parlare di burocrazia che ha un costo proporzionalmente c'è più burocrazia e si paga di costo il rapporto il costo è la burocrazia quindi parlare di burocrazia a Bruxelles che costa mi pare abbastanza paradossale o perlomeno fazioso quando poi noi diciamo se ce li tenevamo è chiaro se ci costruiamo un'economia chiusa facciamo il maso chiuso oppure facciamo giorni fa abbiamo fatto la trasmissione sull'America Latina facciamo il mercato chiuso argentino il mercato chiuso venezuelano è chiaro che non li do però questo sicuramente non mi consente di alimentare un'economia che è globale ci piaccia o non ci piaccia l'economia è globale dobbiamo cercare di governarla dobbiamo cercare di fare delle politiche territoriali serie però non possiamo andare contro il movimento della globalizzazione se non attraverso delle regole precise che devono consentire ai territori di svilupparsi e questo se lo facciamo attraverso l'Unione Europea abbiamo qualche possibilità anche di uscirne indenni se invece lo vogliamo fare a casa nostra magari con la nostra liretta è chiaro che non vengono i cinesi a comprare ma non vengono i cinesi a comprare perché verrebbero a comprare in un paese dove abbiamo la carta straccia e allora dobbiamo ragionare in modo serio su queste cose cercare di capire quali sono i vantaggi del nostro paese e soprattutto quali sono i vantaggi delle nostre imprese altrimenti facciamo un danno al nostro paese e anche la Bianchi che vedevo quando ha detto burocrazia troppa burocrazia in regione ha detto a Bruxelles assolutamente di più un po' di pubblicità un po' di pubblicità